Le Gambiente all'attacco di Eddie Power per lo svasamento del bacino idroelettrico di Sauris iniziato a febbraio, operazione che ha provocato pesanti effetti di trasporto solido fangoso sino a valle, a oltre 20 km dalla diga. Anna Marcolini. Lo svasamento del bacino idroelettrico di Sauris iniziato a febbraio ha provocato pesanti effetti di trasporto solido fangoso sino a valle, a oltre 20 km dalla diga arriva dalle Gambiente e WWF un pesante jacuzzi sui danni causati dall'operazione che sostengono gli ambientalisti ha intaccato gli alvei di tagliamento e i lumiei, sotto accusa anche il metodo tecnico utilizzato per lo svaso. È stata liberata una grossissima quantità di limo e argilla che è finita negli interstizi fra la sabbia e la ghiaia, interstizi che sono vitali per una serie di organismi che sono la base della catena alimentare che poi dà funzione a questi habitat, quindi la vita alla fauna superiore come i pesci, poi ci sono gli anfibi. Suppesando tutti i possibili danni ambientali, Legambiente presenterà un esposto alla procura di Tolmezzo. I punti sono quello di verificare il rispetto di tutte le prescrizioni amministrative che erano state rilasciate dalla regione, cosa che ci risulta non essere avvenuta. Chiediamo allo Stato di attivarsi per richiedere il danno ambientale, chiediamo a Edi Power di farsi carico del ripristino ambientale e del risarcimento dei danni eventualmente contestabili. L'azienda Edi Power, da noi contattata, precisa che tutte le operazioni sono state effettuate con il pieno coinvolgimento degli enti di controllo e dandone informazione agli enti locali coinvolti. respinge ogni critica sulla non correttezza delle attività svolte e rivendicano autonomia nella gestione dell'acqua per scongiurare costi elevati delle bollette alcuni sindaci della Carnia, Ligosullo, Fornivoltri e Cercivento. Nel Mirino Carnia Acque, una SPA che a loro avviso offre una gestione centralizzata del servizio, lontana dalla gente e costosa.